Pronostico rispettato nel primo turno infrasettimanale del campionato di eccellenza, con il Chieti che viola lo Stadio dei Marsi e porta a casa tre punti di fondamentale importanza per il proprio futuro. Gara temuta da tutto l'ambiente neroverde perché l'Avezzano era praticamente all'ultima spiaggia e sulla carta avrebbe dovuto dar fondo ad ogni energia per arrivare al successo e restare agganciato al terreno delle migliori. Ma alla fine la differenza l'ha fatta il superiore tasso tecnico degli ospiti e la loro volontà di voler lasciare ad ogni costo questa categoria. Spettacolo di buon livello con l'ex Lucarelli che sicuramente avrà faticato non poco per vincere l'emozione di dover combattere contro la sua ex squadra, alla quale ha dato molto e dalla quale in passato ha ricevuto altrettanto. Marsicani che devono fare a meno dipendenza. I teatini recuperano invece sia il portiere Forti che soprattutto il centrocampista Verna, un elemento che in questa categoria rappresenta quasi un lusso. Il Chieti conquista tre angoli nei primissimi minuti e al nono passa in vantaggio proprio con Verna che in area è il più sveglio di tutti andando a deviare un pallone partito dalla bandierina. Difesa dell'Avezzano colpevole ma non sarà l'unica volta. Al quattordicesimo su azione di contropiede per poco Rodia non raddoppia a salvare Patania stavolta e la traversa. Spinola viene fermato da Forti in uscita, siamo al minuto numero 23 e due giri di lancette più tardi il giovane Pietrantonio costringe l'estremo di casa alla respinta di piede con Rodia che per poco non ne approfitta. Per l'Avezzano di importante c'è questo colpo di testa di Di Pietrantonio che manda la palla a sfiorare la base del palo. E poi il raddoppio del Chieti che arriva al minuto numero 39 con questa perla su calcio di punizione che lascia di stucco Patania, impossibilitato ad intercettare la palla che si spegne proprio sotto l'incrocio dei pali. E' bravissimo il terzino Pietrantonio. Prima della fine del tempo c'è ancora un destro da lontano di Besana che Forti alza di pugno in calcio d'angolo. Nella ripresa il Chieti pensa più a controllare che a offendere, almeno inizialmente, ma l'Avezzano non ne approfitta. Braghini, che ha giocato tutto il primo tempo eccessivamente defilato, non trova mai la giocata buona e Spinola si limita soltanto a battere punizioni e corner, mentre Di Blanco si sono perse addirittura le tracce. Con simili presupposti per il Chieti diventa tutto facile e alla mezz'ora Spadafora fa trisse di testa a porta vuota, chiudendo di fatto un match che forse per l'Avezzano non è mai iniziato. Il poker lo firma Icramella al 36esimo raccogliendo un suggerimento in profondità che lo porta a battere Patania con un destro fra palo e portiere. E per buona misura al 43esimo ci manca poco che Icramella metta a segno la cinquina, ma sinceramente per l'Avezzano sarebbe stata una punizione eccessiva.